E adesso vediamo come si consegna correttamente un compito che è stato assegnato dal tutor sulla piattaforma Edmodo. Ci colleghiamo quindi con la nostra piattaforma Edmodo e facciamo l'accesso con il nostro nome e password. Come potete vedere, in questo caso io sono uno studente, sono stata registrata come studente e mi è stato assegnato dal tutor Maria Elisabetta Ricordi, che peraltro in questo caso sono sempre io, un compito da consegnare. Innanzitutto voi vedete in questo punto della piattaforma Edmodo, dove c'è questa campanella, alcune notifiche. La notifica più importante è che mi è stato consegnato un compito che io devo svolgere entro sei giorni. Quindi vedrò di leggere attentamente che cosa mi chiede di fare il mio tutor. Controllate anche un'altra cosa importante, appunto la data di scadenza, che in questo caso io ho messo il 25 febbraio alle ore 12. Leggo attentamente quello che mi chiede di fare in questo compito, mi chiede quindi di allegare un file di un lavoro che io devo aver fatto in precedenza. Per esempio aver creato un PDF come salvataggio di una pagina Mimio. Dopodiché mi chiede di inviare anche un breve messaggio di consegna che spieghi il mio compito e di usare il tasto consegna. Andiamo a vedere bene di che si tratta. Intanto mettiamo un mi piace. Andiamo quindi a cliccare sul tasto consegna per vedere il dettaglio del compito. Ecco qui, dopo aver creato mi ripete la pagina con il discorso e a questo punto io devo allegare il file che è presente in questo caso sul desktop del mio computer. E vado ad allega file. Mi fa vedere tutto quello che c'è nel mio desktop. Vado a cercare ovviamente il file del lavoro che devo consegnare, che in questo caso sarà un PDF di una pagina Mimio. Eccola, prova consegna, clicco sopra, controllo che sia effettivamente questa, vado su apri e in questo modo io consegno il compito allegando il file che vedete si sta caricando sulla mia pagina. A questo punto mi chiedeva di inviare un breve messaggio di consegna, io scriverò ecco il mio compito che riguarda il titolo della mia lezione sulla mitosi. e poi andrò a consegnare il compito usando questo tasto consegna compito. E a questo punto il compito è consegnato. Io posso anche riaprirlo, riscaricare il mio compito, ma a questo punto io so esattamente cosa ho fatto e quindi non mi interessa andarlo a rivedere. E quindi magari ritorno alla home page per vedere se per caso ci sono altre cose da consegnare. Per ora è tutto. Grazie dell'attenzione. Grazie.